Io sono Alice, io sono tanto le mie due sorelle, si chiamano Michele Albini e poi voglio anche tanto avere a mio bello nipotino Mattia. Ciao, guardate la porta. Avete visto che bella? Lei è mia mamma e lui che sta facendo i video mio e mio papà Michele e lei è mia mamma. Stefania e poi dopo c'è il mio nanno e poi dopo c'è il mio nanno, il mio nanno che è in cielo e poi dopo c'è il mio nanno, Anna Pisani. Un bacio a tutti, ciao. Ciao, ciao. Grazie. Grazie.